Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del fatto del giorno. Dopo la reelezione del presidente Sergio Mattarella al Quirinale, il premier Draghi torna sulla sua agenda governativa. Il primo punto è sicuramente quello del PNRR. L'Italia infatti rischia di non vedersi riconosciuta una parte dei suoi fondi perché è cresciuta troppo. Infatti il nostro paese è cresciuto del 6,5% e il più 2,6% rispetto alle stime dell'Unione Europea. Per fare un esempio, la Spagna è cresciuta del meno 1,3% rispetto a queste stime e la Germania del meno 0,5%. La crescita media dell'eurozona è stata del 5,2%, per questo il nostro paese si attesta alle prime posizioni. Il PNRR contiene una regola che se un paese cresce troppo, una parte dei suoi fondi, corrispondente al 30%, che per noi sarebbero 60 miliardi, non vengono destinati a questo paese, ma vengono rimodulati e destinati ad altri paesi che ne hanno più bisogno perché la loro crescita è più lenta. Nonostante questo, domani si parlerà di PNRR e di come raggiungere e di a che punto si è sui 45 obiettivi che dovrebbero sbloccare i 24,1 miliardi della tranche, prevista per giugno. I ministri più coinvolti in questo saranno sicuramente quello della transizione ecologica e quello delle infrastrutture, infatti la maggior parte degli obiettivi dei traguardi vissi spissati dalla Commissione europea riguardano proprio questi due ministeri. In tutto, entro il 2026 saranno 64 i miliardi da sbloccare, il 31 dicembre verranno sbloccati 21,8 miliardi e entro giugno 2023 altri 18,4. Aumentano però parallelamente anche gli obiettivi, saranno infatti 101 rispetto ai 50 circa del 2021 nel 2022. Gli obiettivi principali da raggiungere saranno sicuramente la transizione ecologica e quella digitale, uno snellimento della burocrazia e poi una riduzione delle differenze territoriali interne al nostro Paese e anche quelle generazionali. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento a una nuova edizione del Fatto del Giorno.